Un piatto vuoto è la mano tesa di un bambino, di una madre, di un anziano. È l'ingiustizia di un mondo dove ancora un miliardo di persone rischia la morte per fame. Aiuta la comunità Papa Giovanni XXIII a riempire ora quel piatto con un pasto al giorno. Chiama il numero verde gratuito 800 629 639. Dona subito un pasto al giorno a chi non ce l'ha. Grazie.